Parli almeno un po' d'italiano? Il capo ti ha detto il piano? Ah, I don't speak Italian. Eccellente. Ah, fantastico. Ehm, no plan? Yeah, the bus told me. Ah, please. Andi sta. Entriamo dal labirinto senza farci sentire né vedere. La cassaforte è dietro un dipinto al primo piano. Dammi un po' di tempo e lascia fare tutto a me. Quella cassaforte avrà sicuramente un'allarme. Ehm... Yeah. This is gonna be a long night for the both of us. Ah, Cristo santo. Okay, my turn. Do what I do. Do not get caught. See, you gotta keep safe. Safe? Si. It's, um, uh, my job. Apro? Casaforte. Open safe. Christ. Okay. Radio. Let's listen to the radio. Echellente. Hell of a view up here. A volte questo paese è estupendo. Ecco. Echellente. Echellente. Ecco, entriamo d'alì. Un labirinto! What? Vedrai... Oh, a maze. Si, un labirinto. Stay here while I take out the guards. A quanto pare in America hanno il labirinto. Cosa? 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 Grazie a tutti. 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 Salvatore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.